Sono da poco conclusi gli esercizi spirituali dei giovani alla Betone, un periodo in cui oltre alla preghiera e alla meditazione hanno anche la possibilità di fare qualche sciata e passeggiata sulla neve. Abbiamo chiesto ai ragazzi le loro impressioni. Ogni volta che accompagno come educatrice, come mamma, mi rendo conto che poi la parola parla sempre al mio cuore per prima. Questi esercizi mi sono piaciuti tanto, mi è piaciuto il tema su cui ho potuto molto riflettere e anche riportandolo nella mia vita. Mi sono sentita accolta come a casa, come in una famiglia e spero di porterci al rai l'anno prossimo. Mi sono anche piaciuti, sì sì. Poi anche con il nuovo Donne è stato uno spettacolo, cioè le domande che ci faceva ci faceva veramente ragionare. Non ce l'aspettavamo però. Quest'anno sono cent'anni dallo scontro che ha avuto Don Zeno con l'Anarchico e quindi abbiamo affrontato questo tema, il cambio civiltà di Don Zeno. Ogni anno è diverso, l'argomento ovviamente è diverso, sono però sempre dei momenti importanti perché poi riesci a farti delle domande che magari nella vita quotidiana normale non hai il tempo di farti. Quindi penso sia un momento molto importante. Questi esercizi sono andati bene perché oltre a riflettere un pochino sulla tua vita, i Don, Don Nicola e Don Gianpietro ci hanno fatto anche un pochino capire cosa vogliamo fare noi, anche capire come rapportarci con la nostra fede, capire cos'è la fede perché a grandi linee tutti si sa, poi però in profondità è difficile. Sono stati degli esercizi intensi e pieni di gioia e di divertimento, di riflessioni. Qualcosa entra sempre, anche se non vuoi ascoltare qualcosa c'è sempre di importante che ti serve. Le esercizi grandi sono più intensi e devi riflettere di più. Lo che mi piace di più è quando ci scambiamo le nostre opinioni perché pensi che la maggior parte delle persone abbiano i tuoi stessi pensieri, poi in realtà sono molto diversi e profondi. I ragazzi hanno fatto molto lavoro, sia quando abbiamo fatto gli incontri tutti insieme, sia gli incontri a gruppi. Io ogni anno mi perdo sempre con la fede e gli esercizi mi rafforzano sempre e quest'anno gli esercizi mi hanno fatto riflettere molto anche la meditazione del figlio al prodigo, del padre che ti perdona e ti ama. Dei dieci giorni molto importanti in tutto l'anno e anche per la vita perché ti fanno approfondire dei temi molto importanti. È stato bello perché abbiamo capito che anche noi giovani possiamo fare qualcosa per cambiare il mondo. Una cosa che mi ha colpito di questi esercizi è stato l'argomento del perdono del figlio al prodigo perché il don ce l'ha spiegata in un modo in cui io non l'avevo mai pensata. Come tutti penso di riconoscermi in entrambi i figli. L'anno scorso era un po' timido quindi non parlavo tanto, mentre quest'anno ho parlato di più, ho scritto, ho pensato, ho meditato. Servono per aiutarci per le scelte future della vita e per capire più a fondo magari la volontà del Signore sulle nostre vite. Godere un po' di più di questi esercizi perché penso che siano gli ultimi esercizi che farò, perché quest'anno prossimo dove andrò e quindi ho apprezzato molto i momenti anche con il Signore e ringrazio gli adulti e tutti i ragazzi per avermi fatto passare questi bellissimi giorni. E' la strada si apre, passo dopo passo, ora, tu che saranno, se ti smaracca un cielo, un mondo che rinasce e si può vivere nell'unità. Grazie.